Stasera farò un concerto in apertura Un concerto un po' speciale perché non posso fare figuracce con i miei correligionari Quindi un concerto dedicato alle più belle canzoni napoletane Ma non solo le canzoni napoletane Perché di solito si comincia con le canzoni napoletane ricordando Roberto Murolo Che è stato il mio maestro e ispiratore Renato Carosone che è stato il mio maestro ed ispiratore E poi andiamo avanti con delle cose un po' mie, un po' di swing Una canzone tratta dal mio ultimo disco, come dicono i cantanti seri Che ho fatto da Fazio tempo fa Cioè Anime e Core in americano